... Che Luce venga a trovarci, che gli raccontiamo un po' che cosa sono i Cinque Stelle, che cosa è la realtà italiana, è uno scenicista che stimo tanto, ma in questo momento sta dimostrando di non conoscere come stanno le cose. Mi dispiace però questa cosa di Quelloci che ammiro tanto, ma non credo che abbia detto così, sarà stato senza alzo strumentarizzato e mi dispiace poi che dia retta a dei cialtroni come quelli del Movimento Cinque Stelle. Grazie a tutti.